Nell'arco degli ultimi due anni nel porto di Civitavecchia si sono persi 87 posti di lavoro. E' quanto emerge andando a verificare i dati forniti dall'ufficio competente dell'autorità portuale, che dietro richiesta della nostra redazione ha fornito i numeri relativi all'ultimo quadriennio dei lavori che fanno parte dell'organico delle imprese, ex articolo 16 e 17 della legge 84 del 1994, autorizzato allo svolgimento di operazioni e servizi all'interno dello scalo marittimo locale. Ebbene nel 2019, anno che ha preceduto la pandemia da Covid-19, i dipendenti delle imprese portuali erano 1.090. Alla fine dell'anno successivo, quello che in primavera vide l'esplosione del coronavirus, il numero era addirittura salito di 22 unità, arrivando a 1.112. Nel 2021 hanno iniziato veramente a farsi sentire gli effetti della crisi conseguente alla pandemia, con il numero degli addetti portuali, sceso a quota 1.034. Un calo che sta proseguendo anche nell'anno in corso, nonostante la ripresa che si è registrata in alcuni settori merceologici del porto, non tale comunque da riportare i valori assoluti ai livelli del 2019. A oggi infatti il numero dei dipendenti delle diverse imprese portuali è ulteriormente sceso a 1.025, appunto 87 in meno rispetto a quelli che erano iscritti nell'apposito registro alla fine del 2020. Certo, il dato relativo al 2022 è da considerarsi assolutamente relativo, visto che manca praticamente un quadrimestre alla fine dell'anno, durante il quale, attraverso nuove assunzioni, il numero degli addetti potrebbe, si spera, risalire. Insomma, le conseguenze del Covid sull'economia portuale civita vecchiese non sono state ancora assorbite del tutto e la ripresa in atto non ha riportato la situazione occupazionale ai livelli pre-pandemia. Senza considerare poi il personale che, nonostante figuri ancora iscritto nel registro dei dipendenti delle imprese ex articolo 16 e 18 della legge 84-94, continua ad avere periodi più o meno lunghi di cassa integrazione e non percepisce quindi lo stipendio che riusciva a portare a casa due anni fa.